Gli ultrasuoni sono onde sonore che hanno una frequenza troppo alta per essere udite dal nostro orecchio. Frequenze alte corrispondono a lunghezze d'onda molto piccole che fa sì che gli ultrasuoni siano molto più direzionabili e focalizzati dei suoni udibili e così anche la loro eco. Se fossimo capaci di emettere ultrasuoni e riceverne l'eco potremmo ricostruire un'immagine sonora del mondo intorno a noi come fanno i pipistrelli e i delfini. L'ecografia sfrutta lo stesso principio per esplorare gli organi e i tessuti dentro il nostro corpo tramite una sonda che è in contatto con la pelle ed emette ultrasuoni. Tutti i tessuti attraversati dalle onde ultrasonore producono echi. Quelli molli rimbalzano echi di bassa ampiezza lasciando proseguire la maggior parte del segnale mentre ossa o gas generano un eco molto intensa bloccando quasi del tutto la propagazione delle onde ultrasonore. La stessa sonda raccoglie e registra questa eco. Quindi analizzandone direzione e ampiezza con sistemi elettronici e software otteniamo una ricostruzione delle sezioni trasversali dell'area del corpo esplorata. Queste sono immagini bidimensionali in cui l'intensità dell'eco ultrasonora prodotta dai vari tessuti è rappresentata con delle gradazioni di grigio. Con l'ecografia oltre a ricostruire la forma e le dimensioni di un organo si possono ottenere altre informazioni. Per esempio con l'eco color doppler vengono rappresentate con i colori rosso e blu la direzione e la velocità dei flussi sanguigni. Se si utilizzano mezzi di contrasto come nel caso del cuore si riesce anche a tracciare la sua funzionalità nel tempo. L'uso dell'ecografia non presenta alcun tipo di rischio per il paziente poiché alle frequenze utilizzate per l'imaging clinico gli ultrasuoni non producono danni biologici conosciuti. Per questo oltre che per le indagini sul feto durante la gravidanza gli esami ecografici oggi sono di uso comune in quasi tutti gli ambiti medici. Dall'ortopedia alla cardiologia, dalla chirurgia all'anestesiologia. L'evoluzione più recente è rappresentata dall'ecografia tridimensionale che registra l'eco non più su un piano bidimensionale ma su un volume producendo quindi un'immagine in tre dimensioni. In alcuni casi può restituire anche il cambiamento dell'immagine nel tempo ad esempio quella di un feto che si muove nel liquido amniotico. Il primo che tentò di introdurre nella pratica medica l'uso degli ultrasuoni fu l'ostetrico britannico Ian Donald. Donald era stato un ufficiale medico della Royal Air Force durante la seconda guerra mondiale e aveva avuto modo di apprezzare l'efficacia dei sonar sviluppati dagli alleati per identificare i sommergibili tedeschi. Finita la guerra immaginò di utilizzare lo stesso principio per creare un'immagine del feto ancora nel ventre materno e scoprirne eventuali deformazioni o malattie. In quegli anni era emerso con chiarezza che l'uso dei raggi X per gli esami prenatali poteva provocare danni irreversibili sul feto. Nel 1957 Ian Donald e Thomas Brown, ingegnere di un'azienda per lo sviluppo di strumentazione scientifica fondata dal Lord Kelvin, riadattarono un apparato a ultrasuoni utilizzato per testare le saldature degli scafi delle navi e realizzarono un primo rudimentale ecografo. Risultò da subito evidente che l'ecografia non solo avrebbe permesso di seguire le gravidanze ma aveva applicazioni potenziali in molti altri ambiti medici. Il suo uso però cominciò a diffondersi negli ospedali americani e britannici solo a partire dagli anni settanta. Grazie a tutti.